Sono uscite le Vivre Card ragazzi, nuove Vivre Card. Oggi a settembre 2024 e per la prima volta, credo, in tutta la mia vita, devo dire che le informazioni su ste Vivre Card mi hanno sorpreso. Ovviamente, che cosa sono le Vivre Card? Non parliamo ovviamente di quelle che vediamo all'interno di One Piece. Sono semplicemente dei contenuti aggiuntivi che escono in Giappone che danno delle informazioni aggiuntive su vari personaggi che conosciamo per quanto riguarda One Piece, soprattutto magari nell'ultimo periodo. Ecco, solitamente queste Vivre Card danno delle informazioni inutili, ma veramente? Però qua voglio fare un discorso molto simile a quello che dissi per le ultime SBS che sono uscite, che poi hanno un po' lo stesso sapore, no? Che solitamente sia nell'SBS che nelle Vivre Card, Oda ci tira fuori delle informazioni totalmente inutili, che non arricchiscono minimamente la storia, ma neanche l'opera in generale. Eppure ultimamente sembra che queste informazioni, piano piano, le sta iniziando a mettere anche all'interno di questi contenuti aggiuntivi. Evidentemente si è reso conto di aver tante cose in ballo, e quindi vuole iniziare magari a fare qualche foreshadow, almeno nelle Vivre Card e all'interno dell'SBS, e non solo foreshadow perché abbiamo visto che ultimamente nell'SBS addirittura ha rivelato l'albero genealogico di Zoro per dire, e qua sembra aver fatto la stessa cosa, perché c'è un'informazione in particolare in queste Vivre Card che, raga, sembra veramente collegarsi a un Mugiwara, e in particolare alla sua vita è con uno strettissimo legame di parentela, e quindi ovviamente ne dobbiamo parlare, non parleremo solo di quello, ma parleremo anche delle informazioni più interessanti che ci sono per me in queste Vivre Card. Cosa intendo per informazione non interessante? Per esempio, viene detto che il colore simbolo di Vivi è il platino. È interessante secondo voi? Secondo me no. No, viene detto il lavoro che avrebbe fatto Kid se fosse stato nel nostro mondo. Il trafficante di armi. Interessante? Secondo me no. Ecco, le informazioni che per me meritano di essere analizzate, io le ho inserite in queste video, e sono veramente quattro, eh, quindi non pensate così tante. Iniziamo dalla più succosa, ovviamente, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, anche perché solo il 57% di chi guarda i nostri video è iscritto, quindi se fate parte del 43%, shagura a voi, iscrivetevi, mannaggia! E io direi di partire, come promesso, partiamo dalle informazioni più succulente, più ciccione, come mi piace dire, in questo caso anche letteralmente, perché si parla di Queen, addirittura informazioni succulenti che riguardano Queen, chissà che cos'è, e infatti, rega, allora, io quando ho letto il perché la community stava iniziando a parlare di questo personaggio, ho detto questa sarà un'altra di quelle teorie da americano che è esagerata, che non ha né capo né coda, vediamo se effettivamente può essere interessante, allora, parliamo, parliamo proprio con calma. Allora, Queen, a quanto pare, ha un altro nome, ovviamente non si chiama regina nella verità, nella realtà si chiama Shien, questo è il suo vero nome, poi Queen è il nome che prese quando entrò a far parte della ciurma di Kaido, quindi già questa è una prima informazione. Oda ci fornisce una timeline che riguarda questo personaggio, 39 anni fa entrò all'interno dei Mets, quindi in fonda insieme agli altri Mets, che poi è il team formato anche da Vega, Pandagiaggi e da Caesar Clown, 36 anni fa ebbe un figlio, tenetevi questa informazione e mettetela da parte, poi 33 anni fa incontrò Kaido e gli venne offerto appunto un ruolo nella ciurma di Kaido, ma lui rifiutò, 29 anni fa, quindi 4 anni dopo, lasciò i Mets, 3 anni dopo i Mets vennero, diciamo, inclusi all'interno del governo mondiale e sempre 26 anni fa, quindi 10 anni dopo aver avuto il suo figlio, lo abbandona e diventa membro della ciurma di Kaido sotto il nome di Queen, ok? Quindi le informazioni interessanti, io ve lo dico già, sono informazioni che riguardano il figlio, quindi il fatto che 36 anni fa ha avuto un figlio e che 10 anni fa l'ha abbandonato. Qua si parte ovviamente con l'illazione, non è una cosa confermata nella VivreCard, le informazioni della VivreCard sono queste, ma arriviamo ovviamente al dunque, perché la gente sta indicando che Queen aveva un figlio e in particolare che il suo figlio era proprio Frankie? Perché Frankie, partiamo da questo presupposto, ha 36 anni, ok? E qui noi diremo, vabbè, effettivamente Frankie comunque è un carpentiere, estremamente tecnologico, quindi nato mentre Queen era ancora dentro i Mets, quindi magari anche la madre faceva parte dei Mets, perché noi sappiamo che i genitori di Frankie erano dei pirati, quindi probabilmente entrambi, in più diciamo che si collega al tutto con 36 anni, ma è abbastanza, per quello vi dicevo, sembra una classica teoria, no, che tu magari trovi nella community anglofona, perché? Perché si collega solo il fatto che ha 36 anni, poi anche lui sicuramente è molto eccentrico come Queen, anche lui è tecnologico, però poi, insomma, alla fine uno solo indizio, non può fare una prova, ecco. Qua arriva il secondo indizio, che è quello che effettivamente mi ha fatto dire, ok, Oda vuole veramente rivelarci qualcosa in queste VivreCard, perché, come ho detto prima, e questa è un'informazione che io ho detto, probabilmente molti di voi già ci stanno pensando, noi sappiamo che Queen abbandona suo figlio per entrare a far parte della churma di Kaido quando suo figlio aveva 10 anni, quindi 10 anni dopo la sua nascita. Io sono andato a rileggermi effettivamente alcune cose che riguardano la storyline di Frankie, confermate, eh, che sono nel manga, che ci sono nel manga, sono state presentate, tra l'altro, durante il suo flashback. lui, sapete quando viene abbandonato dai suoi genitori, entrambi pirati? Quando aveva 10 anni. Quindi, quindi, quindi sì, quindi le cose tornano alla grande. Cioè, queste informazioni qui sono perfettamente parallele, e perfettamente incastrabili, potrei dire, come se fosse un puzzle, con quello che noi sappiamo da diversi anni con Frankie. E quindi, le cose, in particolare il discorso dei 36 anni, e il discorso legato al fatto che è stato abbandonato 10 anni fa da una famiglia di pirati, ecco, queste cose tornano alla grande. E poi, da qui veramente, allora gli altri discorsi trovano una giustificazione. Quindi, il fatto che entrambi sono estremamente eccentrici, che ballano in continuazione. Vabbè, Frankie non tanto, Queen assolutamente, addirittura sappiamo che la sua passione sono i karaoke, lo scopriamo da questo capitolo. Il fatto che comunque entrambi sono dei cyborg, perché questa è un'altra particolarità di Queen. Queen non solo ha questo frutto Zoan, ma ha un frutto Zoan legato anche alle sue particolarità da cyborg. Vi ricorderete, quando utilizza la forma evita da Brachiosauro, addirittura il suo collo si allunga ancora di più, perché è un collo meccanico, ha un braccio meccanico, ha diverse parti del corpo meccanico. Ecco, ovviamente, mega parallelismo con Frankie. A questo punto, ragazzi, cioè, queste cose tornano. Poi c'è da dire anche un'altra cosa. Tra Frankie e Queen, a Wano e durante la battaglia di Onigashima, non c'è stata mai, e dico, mai un'interazione. Mai. Ma neanche che potesse farci fare questo collegamento. Cioè, Oda ha voluto fare questo collegamento in questo modo. Ora, adesso, ragazzi, ovviamente, il discorso Vivre Card lo riprendiamo perché, come detto, ci sono altre informazioni che per me sono interessanti e comunque meritano di essere discusse. E quindi mi separerò un po' dal discorso Queen. Però vi dico anche questo. Io sono dell'idea che il discorso Mets comunque non è concluso. Vi ricordate com'è finita l'ultima mini-avventura prima di quella di Yamato? Che Cesar e Judge rifondavano i Mets. Ora, noi non sappiamo che Fina abbia fatto Queen, eh? Non sappiamo se è rimasto a Wano, se Ryokugyu, dopo che l'ha sconfitto, lo ha arrestato. Vi ricordate che Ryokugyu era senza nave, quindi è andato lì volando col fiore, se vi ricordate. Quindi magari è ancora rimasto a Wano. O comunque magari ve l'ha liberato da, non lo so, Impel Down e si unirà anche a lui Mets. Comunque il discorso Mets è ancora aperto. Potrebbe essere comunque un'occasione per veramente far tornare Queen in carreggiata e quindi poi riaprire questo discorso anche nella storia line principale. Non vorrei che succeda come è successo con Zoro, ovvero che il suo albero genealogico viene confermato in un SBS, ok? E per carità, l'albero genealogico di Zoro era composto totalmente da gente defunta. Quindi non c'era neanche la possibilità di vedere un incontro con qualcuno di loro. E quindi Oda può aver scelto quella cosa per questo motivo qua. Quindi tecnicamente ancora è vivo e non è segnato come defunto nelle video. Rekar quindi è ancora vivo e quindi secondo me ci può stare un incontro tra loro. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate e andiamo avanti ovviamente, perché un'altra informazione secondo me interessante riguarda Aramaki. Anche conosciuto come Ryokugyu. Qualche informazione su di lui, sono le prime informazioni su di lui perché alla fine, nonostante lui lo vediamo a Wano e ormai di mezzo c'è una saga che è praticamente finita che è quella di Egghead. Noi di lui sappiamo veramente poco. Sappiamo adesso che ha 41 anni, che è nato il 29 febbraio, che segue il tipo di giustizia chiamato giustizia suicida. Non chiedetemi come funziona, ma questo è il tipo di giustizia che segue. Ci conferma il tipo di Aki che sa utilizzare Aramaki, quindi armatura e osservazione, cosa che secondo me comunque è assolutamente coerente con un ammiraglio. E in più ci dà anche un'altra informazione, che è l'informazione secondo me veramente interessante per quanto riguarda Aramaki. E per me ci aiuta anche a comprendere questa nuova cosa, che è la taglia. Infatti viene confermata che la taglia di Aramaki è di 3 miliardi. Tra l'altro, visto che comunque, insomma, secondo me questi contenuti servono anche per collegare un po' i puntini per le cose che vediamo in One Piece, visto che magari le vediamo e la gente giustamente se le dimentica, noi una taglia di Marines l'abbiamo già vista, l'abbiamo già vista due volte. E in particolare abbiamo già visto una taglia che è legata proprio a questo numero. Un'altra taglia di Marine del valore di 3 miliardi, che è la taglia di Garp. Quindi Aramaki e Garp hanno la stessa identica taglia. Questa taglia è stata messa dalla Cross Guild e vi ricordo anche una cosa. La Cross Guild non mette esattamente i berri, ma nelle taglie mette dei simboli. Infatti ogni 100 milioni di berri sono simboleggiati da una stella e per quanto riguarda invece i miliardi, il simbolo utilizzato sono le corone. Difatti nel caso di Garp, e quindi automaticamente anche nel caso di Aramaki, la taglia è di 3 corone, molto probabilmente. Non viene specificato, ma questa è un'informazione che diamo. Quindi 3 miliardi, esattamente come la taglia attuale di Kid, di Lowe e di Luffy. Quindi comunque è una taglia molto molto alta. C'è da dire però, e secondo me questo discorso noi lo facciamo tanto con i Pirati e va fatto tanto e forse ancora di più anche con i Marines, vedendo tra l'altro questo caso, la taglia anche in cui non è sinonimo totale di forza. Assolutamente no. Perché se noi andiamo a confrontare le due taglie vuol dire che Garp e Aramaki hanno una forza uguale. No, io non credo assolutamente. Io credo che Garp... Io una volta pensavo che Garp fosse veramente sopravvalutato, ora credo il contrario, visto quello che abbiamo visto a Cinosu. Quindi Garp per me continua ad essere più forte di Aramaki, contando anche che lui sembra avere anche Lucky del Re. Quindi conta tutto questo. Per me Garp rimane più forte. La taglia sta anche a significare che comunque Aramaki ricopre un ruolo molto più importante. Perché Garp è un viceammiraglio, ha deciso di rimanere in quella posizione in più. È un viceammiraglio anziano, probabilmente membro della Sword, quindi che ha già dato le sue dimissioni ma continua a lavorare in quanto Marine. Quindi a livello proprio di importanza scende moltissimo, mentre Aramaki, ragazzi, è un ammiraglio. Quindi la punta di diamante della Marina sotto appena al grande ammiraglio. Quindi dobbiamo calcolare anche questo. Queste sono le informazioni interessanti di Aramaki. Un'altra piccola informazione che, se vi ricordate, lui non mangia. E proprio dal fatto che lui non mangiava, partivano le teorie per prevedere il suo frutto del diavolo. Ma scopriamo che in realtà lui non mangiava semplicemente perché la reputa una seccatura. Quindi non c'entra niente la fotosintesi, come si discuteva in passato, no? E il suo cibo preferito è l'alcol invecchiato. Comunque, abbiamo parlato di Aramaki. Bisogna parlare ancora di due personaggi molto interessanti. Il primo di questi è Shanks. So che adesso che ho messo Shanks, molti di voi saranno dicendo adesso Marra ci rivela delle mega cose che Oda ha voluto inserire nelle vivere card di Shanks. Assolutamente no. Questa parte di video, soprattutto in realtà solo la parte di Shanks, serve solo a chiarire due cose, visto che ho letto una discussione su un forum e secondo me è giusto cercare di chiarire questa roba qua. Non viene aggiunto veramente nulla per quanto riguarda il personaggio di Shanks. Niente che non conoscevamo, se non il lavoro che avrebbe fatto se fosse nel mondo nostro. Sarebbe stato un fotografo di paesaggi. Ok? Va bene. La cosa che viene aggiunta è la sua nascita, anzi il luogo di provenienza per essere precisi. Difatti la provenienza che viene data a Shanks è nel mare occidentale. Ok? Quindi il mare dell'Ovest. Allora, questa cosa ha fatto discutere in molti perché sapete no? Il discorso Shanks legato ai Feigarland, legato a Garling, però se proviene dal mare occidentale e non da Mary Joa, allora questo legame con i Gorosei e con i Draghi Chalice in generale non ci dovrebbe essere. Invece no, questa cosa non cambia niente perché io comunque alla fine sono andato a cercare, per conferma ma mi ricordavo bene, God Valley è nel mare occidentale. God Valley è il luogo in cui viene trovato Shanks all'interno di un forziere dalla ciurma di Roger. Quindi, canonicamente, lui proviene dal mare occidentale, ma quindi per quanto riguarda il discorso Gorosei, governo mondiale, nobili, c'è nobili, eccetera, eccetera, quello rimane ancora lì, ok? L'ultimo personaggio di cui voglio parlare, anche qui poche informazioni, ma secondo me interessante o comunque meritevole di un discorso, è Mioc. Per quanto riguarda Mioc, due cose su cui mi voglio soffermare. Numero uno, gli acchi confermati di Mioc. Mioc ha l'acchi dell'armatura e l'acchi dell'osservazione, fine, ok? Questa cosa, secondo me, è un po' strana, perché? Voi ovviamente le altre Vivre Card non ve lo citate, però vi posso dire che per altri personaggi come Crocodile, per esempio, è stato confermato l'acchi dell'osservazione e l'acchi dell'armatura, in generale sono stati confermati gli acchi di molti personaggi, ok? Anche acchi che, per esempio, noi nel canone, quindi all'interno del manga, non l'abbiamo visto. Questa cosa vale per Crocodile e per questo l'ho citato, no? Per quanto riguarda, per esempio, Buggy, ci sta, non viene presentato nessun tipo di acchi, però per quanto riguarda Mioc, l'acchi del re non viene confermato. Secondo me è una questione di tempo, nel senso che vedere Oden e Zoro che hanno l'acchi del re, anche Yamato, tra l'altro, confermato, ma l'abbiamo visto, l'acchi del re, e Mioc no, mi sembra una follia, ok? Quindi, secondo me, Mioc avrà l'acchi del re e questa cosa o lo smentisce o semplicemente ci fa capire che forse hanno voluto pubblicare queste vivre card perché hanno pubblicato in generale i membri della Cross Guild, tra cui Crocodile e Buggy che vi citavo prima, ma per quanto riguarda Mioc vogliono tenersi qualche informazione nascosta, come l'acchi del re e anche l'altra informazione che vi volevo citare, ovvero la sua provenienza. Difatti, nonostante questa cosa, secondo me, è importante, nonostante, come detto, in diverse vivre card la provenienza dei personaggi viene detta, anche se non era mai stata citata, tipo, sia Crocodile e Kid sappiamo da adesso da queste vivre card che vengono dal mare meridionale. Importante? No. Citato nel manga? No. Però almeno è citato, eh? Per quanto riguarda Mioc, la provenienza è segnata come sconosciuta. Ecco, qua è come... avete presente quel detto giornalistico, no? Che una smentita è una doppia notizia? Ecco, nel caso di queste vivre card, dire che Mioc ha una provenienza sconosciuta, quando Oda poteva benissimo dire qualsiasi parte di mare di One Piece, e a noi sarebbe andato bene, come nel caso di Crocodile per esempio, per quanto mi riguarda è comunque un'informazione interessante che mi fa capire o mi suggerisce comunque che potremmo veramente vedere qualcosa di interessante per Mioc e per le sue origini, ok? Quindi, come sempre, io l'ultimo punto l'ho voluto lasciare abbastanza misterioso, che è appunto il punto di Mioc, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, e anzi qui in questo caso mi dovete far sapere diverse cose, perché abbiamo parlato di tanti argomenti in meno di 20 minuti di video. Comunque ragazzi, io vi saluto, mi raccomando, come sempre, fate i bravi, e noi ci vediamo chiaramente domani con contenuti di Tema Lampis, e soprattutto legati al capitolo, quindi ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti.